C'era Roma, gli Udici c'eravamo noi, che vedo che è esatto, il contributo, il penno non esisteva ancora, tanto non c'era, si chiamava l'esperienza, ci sarebbero stati in Trovos, ma non c'erano a Roma, quindi c'erano più. C'è stato, c'è stato, c'è stato, Bobi Solo, che ha preso una stangata, una stangata di pietra, no, 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 lei sta cercando, facciamo finta di non vedere. Ha preso una stangata di bottiglia, perché era fuori, cioè, noi avevamo una specie di armi, con i militari, 5.000 persone, che venivano sempre, quando c'era un festival, a Venezia, tranquilli, però volevano ascoltare la musica, buona. Allora, magari c'è un fan qui, di Bobi Solo, non lo so, ma... Non lo so. Ma, cioè, lui era proprio fuori del suo campo. Sì, ma allora era abbastanza d'uso, qui a Torino, mi ricordo, è molto pesce, ma... E lui aveva una giacca con il Giorgio. Ha regalato a Bobi. C'è stato un festival qui a Torino, dopo un Peter Gabriel, Bruce Springsteen, il presidente Pio Sondor, Tracy Charman, e c'era qui, come si chiama? Baglioni. Baglioni, è stato massacrato, infatti ha dovuto intervenire Peter Gabriel per aiutarlo a fargli, per la controvoce. L'episodio che stanno raccontando a Wesley si riferisce a Villa Panfile del 72, che tra l'altro, sembra che ci sarà il prossimo anno e quarantennale che di Villa Panfile, e qui senza altro ci sarà, perché l'organizzatore, la Fido Lucimere, ha detto la nostra impresaria, no? E in effetti quello che dice Wex, come solo, è vero, che oltretutto ad accompagnare, se la prego, un gruppo di città, di Roma, che erano in fune, una Bruce Springsteen, no? E solo che quando, la raga, se fammo un rock e roll, lo sai che ho fatto l'epoca di Eglise, no? Se fammo un rock e roll, no! Avevamo un salto di sabbia, su, sulla chitarista, e si è spaccato, ha sentito questo boato, perché letteralmente a chitarra mi chiamano, una volta, i propri ragazzi se vedevano, Comunque lui era molto simpatico, c'è una persona simpatico, no, sì, ma, c'è, Joe, non va, Joe ha detto, battiamo, non andiamo su a suonarlo, non perché avevo paura, per lui, avevo paura per il suo organo, no, questo, Sing3, che ha costato una stancata musica, non avrebbe mai perso di mentre, se non avendo lui. Sì, sì, allora, io ho assistito, guarda, c'è un pubblico fuori, 80.000 persone, c'è un pubblico fuori, che aspettano qualcosa, allora, metti un po' di nero, sulla faccia, diventi sporco, diventi una bestia, andiamo su, e sono sicuro che vinceremo, e quello è che è successo, cioè, in prima pezzo, ho dato le ordine al tipo delle luci di fare una scena nero, all'inizio, Joe ha cominciato a suonare con un spot sull'organo, poi, un terzo spot sulla batteria, e poi, un terzo su me, e avevamo un, eravamo furiosi, ma furiosi con gioia, e lì c'era veramente, pericoloso, perché avevamo il pubblico nella nostra mano, e allora diventi pericoloso, perché poi dopo, pensi che sei, che sei arrivato, c'era un'altra in Italia che c'era il pubblico in mano fino a qualche tempo fa, ma era un po' più basso, se qualcuno vuole fare delle domande, suonava anche a lui. Sì, per 36 anni di... ... ...